Drago Freebooter, un canale illegale, ma questo video è bello Sono un metro e novanta, ma mi arrivi alle p***e, cosa cazzo vuoi? Ma io parlo di una parte specifica Ah c'è pure Ma scusami, secondo te, Cocco, questa qua è una domanda che ha quasi rovinato la carriera di una ragazza Cioè secondo te è tu a guardarmi, pensi che io sia uno con delle dimensioni interessanti e delle dimensioni abbastanza infime No, secondo me è il c***o E andiamo, e andiamo Bene, bene, bene Sì, sì, secondo me Bene, bene, bene Beh me l'hai visto, ti ricordi, no? Certo, che bel p***o Bello, bello Un po' tendente verso sinistra, un po' lì in su anche E vabbè Sì, sì, sì Effettivamente è vero C'è una descrizione alquanto accurata, devo dire Però, cioè, non so se ti sei accorta Quando l'hai ovviamente guardato con attenzione Che va su e poi però a un certo punto va giù di colpo È vero, fa un'onda strana Ah sì, ma perché in realtà è fatto apposta per comunque provocare piacere Perché andando su lì tocca la parte che piace più alle donne E poi va giù di colpo, fa così e lì tocca proprio la parte quella del punto G, capito? Ho capito, ho capito Non ho capito Non ho solo per descrivere Com'è che allora mi ha fatto così cagare la performance? Proprio capacità tua allora Cosa? Ma è colpa del fatto che tu fai cagare? Sì Sì, sì, sì Se lo faccio veramente Come no? Se Jody e Dario Mocha mi incazzo Perché io Jody stasera l'ho invitato e mi ha detto che non entrava in lei perché era stanco Se Jody da qualche altra parte mi incazzo, eh No, se Jody stavolta mi incazzo davvero No Fammi controllare Fammi controllare Se sei davvero lì mi incazzo Se sei davvero lì mi incazzo Perché mi ha detto che stasera non entrava in lei Ma che miseria Sì, bravo, complimenti Eh lo so, è la concorrenza Dal contributo è la concorrenza Oh Ciao